Siamo con il direttore Gian Marioli a termine di Livorno Cremonese 1-0. Direttore, come commentare la scopita della Cremonese? La partita è stata anche dominata, tanto in Cassioli. Non andava dentro, si è visto da rigore, però credo che, come dicevo prima, in questo momento stiamo già pensando a Vessingle Roma, l'ultimo parco in casa, per determinare e definire un campionato che ci ha visto rincorrere e adesso protagonisti. Non ci possiamo fermare proprio per l'ultima partita. Con quale spirito affrontare il Racing Roma sabato prossimo allo Zini che verrà a fare la partita della vita? L'affrontiamo come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, dal derby perso con Piacenza. Ci siamo molto uniti ancora di più, però credo sia molto importante che lo Zini sia pieno, che la gente ci stia vicino per tutta la partita, perché veramente sarà una partita che ci farà soffrire un po' che lo dobbiamo raggiungere proprio qui. Com'è l'umore nello spogliatoio? È molto positivo. Come dicevo prima, se giochiamo la Serie B in casa, è un sogno. Per qualsiasi calciatore giocare allo Zini e giocarsi alla Serie B, che dovrebbe essere al massimo. Come rispondere al Presidente D'Alessandria rispetto alla dichiarazione di settimana? No, la andiamo a trovare dopo domenica. Va bene. La andiamo a trovare, che è una persona molto educata. Ora andiamo a trovare, sicuramente dopo la partita fare anche i complimenti per il campionato che sta facendo. Grazie, Ritardo. Grazie.